Io non credo sinceramente che esista una fiction televisiva, forse neanche un film per il cinema che possa sostituire una conoscenza tradizionale della storia, cioè quella che avviene attraverso lo studio dei libri e dei documenti. Detto questo, però, va detto che ci sono delle serie televisive, così come dei film, che possono incuriosire per far sì che chi le vede, lo spettatore, possa andare a scoprire degli aspetti di determinati periodi storici o di personaggi della storia che non conosceva o che erano stati rimossi fino a quel momento. Io in questa sede ho parlato di Peaky Blinders, che è una serie britannica tutt'ora in corso, siamo alla quarta stagione ed si prevede che si dipani su sette, quindi ne mancano ancora tre, racconta la storia di una gang criminale di Birmingham dal 1919 e andrà poi a terminare all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi un ampio periodo storico che non riguarda soltanto la storia della Gran Bretagna, del Regno Unito e dell'Impero Britannico, ma la storia d'Europa tutta, perché si parte appunto dalla Prima Guerra Mondiale e si arriva all'ascesa di Adolf Hitler e quindi insomma un po' riguarda tutto il continente e tutto il mondo. Ho scelto Peaky Blinders non perché la consideri una serie irrinunciabile da un punto di vista estetico, probabilmente ce ne sono di migliori e ha anche avuto dei problemi di rodaggio, diciamo, rispetto alla messa in scena, alla scrittura dei personaggi, alla definizione delle situazioni. Ho scelto però questa serie perché mi sembra che tenti di affrontare la complessità del periodo storico di riferimento con rispetto e onestà, nel senso che non vuole ergersi a interprete di un pensiero piuttosto che di un altro, di un percorso teorico piuttosto che di un altro, di una storiografia piuttosto che di un'altra, ma di rendere personaggi dei caratteri, rendere caratteri finzionali, cioè che sono totalmente credibili e verosimili all'interno di una fiction, dei personaggi che in realtà sono veramente esistiti.